Bentornati nel canale Novel Electric Studios, oggi siamo qui con un gameplay di Minecraft Minecraft rotondo, non è un cubo Sto coglione ha compiuto gli anni, quanti ne hai compiuti? Tre, 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 ti pensa ancora due Vestiggia la grande, mettendola nella canaletta Che tiro di merda, oh finalmente è bianco Andiamo lì, si può notare Pietro, Pietro Giulio ha avuto che tiriamo sulle spondine dell'altra Può tirare sulle spondine Dai Giulio Parte alla grande Due punti Sembra bella e lo era Sicuramente voglio togliere Abbiamo in camera l'ufficiale Il 12 è massa Parla da biliardo, cambiamo sport Tira con quella rossa, con quella lì su massa fatica Il tamara che è per lui Secondo tentativo Andrà a buon segno, non si sa Bel tiro Attenzione, attenzione Ma lo speri, è un solo colpo Non ha fatto strike Esatto Non ha fatto strike No, non è vero il secondo Ed ecco Pietro Imbattuto Che gioca in casa Per il demone Si sta solo scaldando signori Si sta solo scaldando Scivolata Scivolata Vai vai scivolata Quanti ragazzi Due 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 Manca un'altra metà Manca un'altra metà Bocce di punto a molo Giulio Vogliamo parlare un secondo Di cosa ti è arrivato per regalo Allora È arrivata una camicetta Molto elegante Ma se c'entra pari gameplay La camicetta Fidati Fa più gus Ok Fa più gus Fa più gus Fa più gus Fa più gus La camicia Raga Distruggiamo tutto stasera Tutte la camisa e suga pinball Ciao Ciao Johnny Vai Comunque abbiamo una bellissima camicetta Che metterò sicuramente in acqua Sì ma arriva il succo dei regali Il succo è Anche la carta del regalo Un sandalo La carta del regalo Il sacchetto buono Fiocchetto rossa Fiocchetto è la cosa più importante Fiocchetto è bellissima Noi abbiamo avuto una Una charta Una charta Stim Stam 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 Stim Stam Beh Sì C'è qualcuno che sa giocare Vabbè Con cui forse Sicuramente arriverà The Forest E qualcos'altro Secondo te quanti giochi Quanti giochi possiamo prenderci Dipende da quanti cash 50 euro Parecchi E poi è arrivato un abbonamento Link che male le mani Al link Al link M A N Craft Ah c'era una M 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 Non c'era una M D'acqua C'era una M Si dai Giulio tira Va la perché Come youtuber Ahahahah Vediamo come è bowling Facchè di che mina che la tira Si ma se spieghi ne chiedi tu Dite 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 Mamma mia! Di no look! Tentativo per il cameraman Vogliamo lo spare del cameraman A destra No! Uno, cazzo! Due, c'è anche quello dietro È rimasto lì, cadi È serrato su Pietro per la scossa di Amadeus Beh, mi ricordo che è lui la volta che siamo venuti Scossa! Questa è la mia madre Sai che se la invia a scaldarsi il primo ne ha ancora Ne ha campi Ne ha campi Ansi a canaletta Eh, perché i canagli è cosso Adesso è duro Cosso parla lunga Perché è una barca, è il Parnasseo Questo era bello Ti guardo un po' più lungo Ti tiro di merda No, è bello invece No, è bello Va il tuo all'ora per... La verto le acque come cos'è No, è bello No, è bello Lemon set Aspetta Sboccio? Cazzo lo strikes Coppia sei una tesina merda Bravo Bravo Sta fermo For a enjoy For a enjoy For a enjoy Bellissimo Questo mi piace Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Bello Bello Bello, mi è piaciuto E' già dove recupera Non com'è E' sparso qua, o no? Sperso Hai stesso punteggio di Giulio Ma al prossimo raddoppi Vai Pietro Bocca di Questa si chiama sfiga Che ti riga Tira 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 forte Pianto, Gizzo Vai, tira, tira Piace e pianto Ancora piace e pianto Ancora piace e pianto Funziona sempre, vai Guarda per il Lidio Tira la madre Bella zio Guardalo Guardalo guarda giù cacchipo è meraviglioso vada cattiveria giù la partita era quella da dove iniziare? si ho fatto 18 30 fatti io ho fatto chilometri orari ho fatto chilometri orari con la palla da 12 vado così vado merda bacca di vi ho stramanzato noi prendiamo più bacca di hai anche il video? si si ecco bacco 32 bello che le tira tutte vado un attimo provo a raccoglio che ci dà con questa cos'era? 25? 6? tagane ma... non manchi ci la tirai prima con i trasstraik Buongiorno! Adesso c'è il giro! Sì, mi sa che sì! Sono 99! E' una maledizione adesso! Sono tagliato! 29 e 3! Adesso ho 33 e devi battere! Ultimo tiro adesso! Ma tu non mi ha occhi a me? No! No! Faccare i culi! Hai fatto più punti di noi prima! Se fai uno spare hai vinto inevitabilmente! Bello! No! No! Una puma, cazzo! No! Schifo era! Ma perché dentro a questa con le scarpe? No! Adesso dovrò capire come attivarlo! No! Non devi attivarlo! Invece lo scaricare mai! Mentre la persona! No! 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 Uneddium! no no aspetta perchè non c'è la mia macchina, mi ha mancare tutto l'acceleratore è quell'altro l'acceleratore Giulio, lì è freddo è la pressione, è la pressione effettuare la pressione, è appena possibile questo video qua perchè lo mandiamo a uno strato di video Giulio supera, Giulio supera, in prima posizione contro il nulla, l'avversario si è piantato, l'avversario sul muro cerca la battaglia, ancora all'interno battaglia all'ultima curva ancora, Giulio non demorde, vuoi la vittoria all'interno, sul culo dell'avversario guidano uguali, hanno preso tutti e due esattamente la stessa muretta attenzione, Giulio si impianta commento finale? caldo, tanto caldo però è andata bene cos'è? facciamo niente adesso Giulio è altra cosa guidare devi capire che faccio così anche nella realtà io ma perchè, perchè sbaglio è un bordello ma perchè, perchè sbaglio è un bordello una volta che si impara immaginate di essere ai dritti sull'incorso eh? ecco l'incorso Joseph, quando tiri il freno a mano devi girare la parte opposta in cui vuoi girare giura dai di più oh adesso non so se c'è la soluzione migliore non vedi come ha commesso la manca invece è la ciappa, è la ciappa che diceva perchè vedi la via più grande, è la pitta più grande ma infatti si parla ulti che mi sto contando ho capito come si tolta ciappa te un drink, fermate un attimo ciappa te un drink galbar lì vicino alla prossima curva alla seconda curva c'è il McDrive la prossima curva ce l'hai McDrive? si ciappa compleanno pizza compleanno e abbiamo fatto abbiamo fatto pizza, bullying e adesso ho un paio di tornei qua quindi io vi ricordo commentate, iscrivetevi, lasciate il like e quando vedete animali, macchine se avete un pandino lasciatelo mi lascio un commento mi lascio un commento mi lascio un commento ci sono voi si